Per cosa è morta Lisa Marie Presley? Domanda molto semplice. Bene, in questo video di oggi cerchiamo di capire i motivi che hanno portato la donna alla morte. È morta per complicanze dovuta ad un intervento di chirurgia bariatrica a cui si è sottoposta diversi anni fa di tempo. La cantatrice, erede di Elvis Presley, che è morta il 12 gennaio a Los Angeles, a 54 anni di età, è stata dichiarata morte per motivi naturali, per colpa di un'istruzione nell'intestino tenue. Il rapporto del medico conferma che la Presley ha avuto, diciamo così, la morte che è sopraggiunta per un intervento di chirurgia bariatrica relativo alla perdita di peso. Una clinica ha fatto sapere che, effettivamente parlando, la perdita di peso però nella donna non ha funzionato, perché comunque pesava un bel po' e alla fine è arrivata la morte. Voleva migliorare se stessa. Vi ringrazio per l'ascolto e per l'avvisore di questo video di oggi di dentro di YouTube. Mi raccomando, datemi le vostre opinioni che è degna di averle. Ormai Lisa Marie Presley è morta un po' di tempo, però ripeto che in questione di tempo è stato disverato il motivo che ha portato la donna a molti. Ciao a tutti.